200 residenti isolati a Carimate per la chiusura della via dei Giovi a causa del danneggiamento del ponte. La strada è di fatto a fondo cieco perché lo sbocco è chiuso per i lavori di realizzazione del sottopasso ferroviario che sarebbero dovuti partire proprio questa mattina. Gli 200 abitanti che abitano al di qua della ferrovia non hanno altra via d'uscita perché il passaggio livello è chiuso perché RFI sta facendo i lavori per il sottopasso. Quindi è tutto fermo. Noi abbiamo chiesto a RFI di riaprirci il passaggio livello alla stazione che però non sarà una cosa velocissima perché ritogliere il cantiere non è facile. La via d'uscita studiata è quella di un bypass che sarà realizzato grazie alla collaborazione con i privati. Nel frattempo noi faremo in collaborazione con la provincia un bypass. Abbiamo sentito la proprietà della società Fratelli Elia che ha il deposito delle macchine per entrare nella loro viabilità interna e riuscire sotto quell'altro ponticello che c'è a 70 metri da qui. L'alternativa per i residenti dovrebbe essere realizzata entro un paio di giorni. Alla fine per i due o tre mesi o quattro di lavoro per sistemare di nuovo il ponte quantomeno la circolazione per la sicurezza dei cittadini, per la Croce Rossa, per i vigili del fuoco, eccetera se si dovesse avere bisogno, almeno ci sarà un collegamento diretto con la viabilità.